Assolutamente sì, allora, la tax, l'azienda che ha fatto grande il casentino ascolti, visto che c'è Roberto lì, ha visto che cani belli, Davide, Davide Sabelli, seconda generazione, Roberto, vi siete spostati dalla vigna, ho visto, mi senti Roberto? Non c'ha niente, non c'ha ritorno. E' un tessuto che si presta a tanti usi, siamo alla terza generazione, mio nonno Bruno era uno dei responsabili di produzione del vecchio lanificio di Stia, poi negli anni 60 si mise in proprio, fondò questa tessitura, prevalentemente per lavorare conto terzi, poi dopo iniziò a produrre la produzione, Massimo gli ha dato un'anima un po' più imprenditoriale. Però è bello perché c'è vedere queste aziende che crescono di padre in figlio, che soltanto da noi possono, visto Alessia, come ho detto prima, veramente questa è un'eccellenza che, grazie anche a Confartigianato, perché Confartigianato cerca di mettere in vetrina quelle che sono le aziende, che sono distinte, perché voi avete, diciamo, coinvolto il territorio del casentino. Sì, noi... Le famiglie, quante famiglie avete dato da lavorare? Soprattutto negli anni 70-80 a tante persone. Senti, ma perché questo, guarda qui poi abbiamo anche un cappotto qua dietro, perché questo tessuto così particolare, che poi con questi colori che voglio dire arancione e verde, no? Sono le caratteristiche, sono le caratteristiche che il ricciolo, che sembra sia nato per dare una sorta di doppio strato al tessuto, perché chi lo portava doveva stare molto all'intemperie, diciamo, e quindi per renderlo un pochino più impermeabile. Certo, perché poi nasce come abito da lavoro questo, anche, nel senso, cioè... Lo mettevano i barrocciai, che portavano le mercanzie a Firenze... I sai, ci facevano per i francescani, giusto, che siamo nel casentino, quindi nasce come un capo, poi lo vediamo anche qui nelle foto, nasce come un capo, eh, e poi prende vita ed entra nella moda. E siete adesso in tutta Italia? Noi, noi sì, abbiamo aperto un punto vendita anche a Firenze, adesso, vicino a Via Tornabuoni. Quindi, figuriamoci. Bentornati ad Expo Etruria, a questo viaggio che vogliamo fare nelle eccellenze del nostro territorio. Sono storie di famiglia, sono storie di emozione, perché è quello che fa grande il nostro territorio, ma anche tutta la nostra Italia. La Tax, questa azienda che è nata storica, perché già questo panno esisteva nel Medioevo, e Davide Savelli, che anche grazie a Confattigianato, insomma, voi fate parte anche di questo circuito, perché le eccellenze ci vengono segnalate, grazie anche a loro. Avete continuato, tu e tua sorella, vero? Mio babbo, poi io e mia sorella ha preso un'altra strada, diciamo. A lei, quindi sei rimasto tu, vero? Sì, sì, sono rimasto tu. Ecco, in dettaglio, tu che sei la nuova generazione, di cosa ti occupi? Perché abbiamo anche le foto, che voi fate anche venire le scolaresche all'interno dell'azienda, vero? Sì, possono venire a visitare anche la produzione, gli facciamo vedere il telaio, perché abbiamo la tessitura proprio... Questo è il telaio, praticamente? Sì, sì, il telaio in via Sanarelli, i telai, e gli facciamo vedere, c'è una spiegazione della lavorazione, perché dal telaio esce la pezza grezza, quindi non si renderebbero bene conto cosa esce dal telaio. Certo, ma per te è stato amore a prima vista, perché, ribadisco, il panno del casentino è un qualcosa che averlo nell'armadio fa chic. Una volta era per bisogno, adesso fa veramente chic. Sì, oggi è un prodotto ricercato. Cioè, ricercato, voi avete anche dei negozi, è oltrooceano? No, 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 diciamo, noi a livello di negozi nostri abbiamo Pop, Pistia, Firenze, Bagno di Romagna. Cerchiamo di fare anche diverse mostre dell'artigianato, e allora lì ci spostiamo anche in tutta Italia, e vediamo con piacere che i prodotti sono... Ambiti? Ambiti, anche perché a prezzi di fabbrica. Vabbè, però voglio dire, però è conosciuto, cioè quando voi li presentate... Abbiamo avuto, sì, sì, tutti si ricordano di aver avuto da bambini un Montgomery, un cappottino di casentino, arancia, magari foderato di verde. Come si veste di nuovo adesso un prodotto di questo genere? Ma ora ci sono tanti modelli, ci sono tante tipologie di cappotti, mantelle, non è il cappotto... La tecnologia serve però, nel senso anche per poter dare input di nuovo a questo, un nuovo, di vestirsi ancora di nuovo. Oppure la gente lo vuole ancora classico, il Loden... I prodotti classici sono quelli che vanno per la maggiore, il cappotto classico a doppio petto, il Montgomery... Sì, sì, sì. Sono quelli che riempono più gli occhi della... Verde o arancio? Perché sono due colori? Il verde forse più maschile? Direi che sono due colori abbastanza femminili, però ci sono anche le persone un pochino più... Gli uomini un pochino più estroversi che riescono a avere il coraggio di portarli. Il dandy, se no blu, si fa il solito... Col blu, col blu, col blu. Col blu, sì.